Benvenuti in questo nuovo video di DevonGas Questo oggi è un minestrone completo e definitivo di video Perché da una parte abbiamo l'idea di caprotta Con tutti con lo stesso nome e vestiti casuali e colori casuali E dall'altra abbiamo la mia idea Ovvero che per ogni match si può parlare soltanto con le parole di una lettera Chi è quello con la carta igienica in testa? Non ti interessa, non lo devi sapere Però sicuramente è Marco Nessuno deve sapere chi è Esatto, tu non devi sapere, fatti gli affari tuoi Quindi? Tu sei quasi Con la scatola e il cono, guarda, tu sei questo, sicuro Sì, sì, sono proprio quello Secondo me è lui La prima lettera da utilizzare per tutto il match in ogni meeting è la P di Paolo E quindi dobbiamo dire ogni parola con la P Solo parole con la P, altrimenti sei fuori Ma come fai? Non puoi in italiano proprio Solo con la P Inventa parole che non esiste Impegnati Un nuovo vocabolario oggi si inventa Impegnati Buono, buono, buono Arrivederci Arrivederci Ma non è possibile che ogni volta che facciamo qualcosa di te la dobbiamo fare identica Invece è possibile È possibilissimo Ok, allora, quindi qua fa tutto bene e devo capire Secondo me è beccato un nutellino, vedrai Dici Vedrai No, sento Pi Prego Pi Prego Per favore C'è paura Pepita Pepita Priva Panino Pove No, no Pistole Pistole Più, più, più Più, più, più Più, più, più Più, più, più Però 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 Pette Pette Pettinicolare Però possibile Peperone Però possibile Pesto Per provare Per provare Pettinicolare Peperone 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 Vabbè 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 Io Iñaccolare No, no Cos'è che ha detto Carly? Niente Niente Ragazzi Ho sentito Tranquilli Niente Niente Io Va bene Ora la prossima lettera Quale sarà? Ma è meglio non sapermi P Sempre P? Sempre P P di pollo Io non so cosa ha detto Carly È meglio che non la sapere Ok Era poco No, non so Sarà il caso Che dici Ah ok Non male No, penso che Si è incasinata Con le parole È l'uscita La parola Non proprio Ho capito Carina da sentire È difficile Siamo veramente tanti Capito? Siamo veramente Veramente tanti Ma tu non sei potenziato Che senso? Non ho detto che potenziavi L'impostore Eh no Posso far che il più Vabbè c'è tutto Ma siamo talmente tanti È un disastro Guarda sempre a te Trovo la killa Ma killami Non ha senso Devo chiudere un po' di porte Per farglielo trovare Il più tardi possibile 3 2 1 Chiudiamo anche questa E poi E poi Dove l'ho ucciso? Perbacco Porca paletta Quindi Presumo 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 Per Per Perpendicolare Per Posso provare Posso provare Precisione Precisione Posto 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 Come lo dico Senza la p Posto Po Per mio No Per mio Potore Terre parere Potore 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 Pronto Potore 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 QualCHI può essere… Perde Il Perde 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 Merde patentati è patentati veramente patentati ho fatto tutte le missioni sono io povero povero porca paletta porca paletta povero allora se rimango con loro a questo round si fideranno di me per sempre no era una bella mossa vero? si ci è chiuso fuori proprio bene è chiuso dentro anche le telecamere sono ancora spente perché marcia è morta esatto quindi non lo userà mai più nessuno tranquillo ok porca paletta paperino pera il perort verde però posto 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 paffetteria paffetteria puffin paffè Paffè Croissant E Posso parlare Pallarpila Prego Però Enzo Unica frase Pornale Pentipecondi Pentipecondi Veloce 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 Penso Parla Penso 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 pulizie Personalmente Perché Perché Pio Perché 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 Per il perdo di prima Pietepatti Io ce l'ho faccio più Cioè Non è giocabile Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sei riuscita a vincere Oddio No in realtà potreste completare l'ultima task Io le ho completate da due ore Chi non sta giocando Aiuto Penta Kendalino 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 Per grande Stef Ma io sono morto mezz'ora fa Stef Ma Kendalino cosa? Chi hai seguito? Non eri tu? Non ero io Non ero io Allora perché stavi parlando Ma infatti Chi ho chillato allora? Ero io Per primo Mi hai ucciso come secondo L'ultimo che ho ucciso Io 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 Quindi tu eri con la maschera di scream Sì questo Questo arancioncino F F di Felicità Di Fregato Fregato Di Prana Perché penso solo alle parolacce? Oh Anch'io Famos a failare Fiaffamato Fallito Fosso 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 Fallito Fosso Fallito Fatemi 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 parlare Falta Fatemi parlare Fatemi parlare Parla Allora Fio Foterei Fa Che hai detto Stenzo Ok Scusa Fill Fill Fiola Il Fiola Fosso Fosso Fonso Perché Fosso Perché Fosso Fosso Vediamo Fi viene Fifato Parazzi Fosso Fesso Uno Fosso Comunque io non ho imparato una cosa, su Among Us più è stupida la regola più esce divertente il video. C'è poco da fare. Perché si diventa scimino automatico. C'è poco da fare. Perché voleva buttare fuori? Ma non lo so. Comunque abbiamo detto cambiamo le skin e sto qua è rimasto qua l'ha cambiato solo il colore. Ah che dico. Ti rendi conto che durante le... Ti sto ardito. Cioè non riesco a parlare, mi va un po' a faggirarlo. Beh direi. Dico due parole ma non riesco a parlare. Io pensavo solo come faccio a dire tutte le parolazze del vocabolario. perché ti vengono in mente solo quelle Carly, almeno riesci a dire qualcosa, non riesco a dire nulla. Ti menti il tuo cervello. Fove! Poveforto! Viola, Viola! Fosso! 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 Fifotiamo! Fiola! Fendal Fola? F-forto! Fendal F-forto! 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 FIOLA 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 FOMULA 1 Chi è il FIOLA? FENDAL FATETTO FENDAL FFOLA FOLA FOPPOSATO FFOLA FOLA 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 FORTI Fio Fio è votato Fio 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 Io vorrei scoprire l'impostore, vedete se riesco a farlo capire agli altri Non ci riuscirai mai, sarebbe divertente È quella la vera sfida oggi aia ogni volta che è successo dall'altra parte l'amavo devo farmi anche io le mie missioni situate le camere o marci sai che ho finito se non me ne compagliano altri ma vedi che nessuno sta a fare le tasse secondo me ce l'ho io le ho flu 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 fulcate fileste perché sul file este il mio lavoro è fu un foto file e del futuro più è lecco lo dico un postore flu fulcate fieleste 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 per lui ma perché a caso scusa stef cosa hai fatto telecamere telecamere in telecamere vero stef si era lui io pensavo mi uccidessi ho detto no io pensavo fosse il viola perché aveva lo stesso cartellino in faccia hai schifato troppe volte il modo di fare le tasche e quando c'era l'emergenza di ossigeno stavi cercando la kill usiamo la s comunque se mi fisso che voglio beccare l'impostore ormai io non ho capito perché ogni volta che tu ti fissi rovini la partita a mark sempre però io non potrei sapere che a lui certo perché abbiamo anche le skin diverse è sempre mark tu rovini sempre la vita a mark è un'abilità incredibile perché è positiva negativa probabilmente negata se impostore comunque ti muovi diverso quindi se ti fissi che vuoi vedere i movimenti lo certo no non c'è niente da fare io ne ho osservato un po visto i movimenti e fatto a lui lo beccato che ci vogliamo fare se sono forte con la s sarà interessante sassofono no è impossibile ti escono un sacco di parole strampalate no è tutto se lo so e verbo che vuoi Nature in questo caso si deve cioè l' Cerde sotto Cerde sotto Cerde sotto Trovati a difenderti Chi è la verde laga? Chi? Chi? Mi è sentita la chi da manca Ho detto che ho panicato Abbiamo vinto Sarca sacca Con la S siamo andati bene Acciderbolina Usiamola A Accipicchia Accipicchia Accidenti Arrivederci Allora Aiuto Non ho più capacità ragionative No io sono veramente assurdito Mi sento stunnata letteralmente Sto ragionando Sto ragionando Andove Ambrozzattissima Allora Ambrozzattissima Tia Allora 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 Antagonista A Riazione A Riazione Arancione A Riazione E A 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 al mercato a io a io arrivederci abbiamo azzeccato abbiamo interessante immacolato di impostore sto rosicando adesso mi vendi non puoi non hai capito quello che ti ho detto all'inizio impostore no no facciamo mazzare nico è ucciso ma non l'ho fatta a casa e non so se c'è qualcuno continua a fare tutto spam emergenze kill io gli edovo gli hanno ucciso yarli io interessante randi e redone i redone e i e stato giallo io io gli curo io 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 interessante Interessante Gli vedrete Gli andiamo Gli andiamo Gli andiamo Gli andiamo Ma era di nuovo un sexo veramente Gli andiamo Gli andiamo Gli andiamo Gli andiamo Gli andiamo Gli andiamo Ho ancora un mille Perché ero convinta Che mi avesse visto Quello scemo Io non so che accidenti ha visto Quello si fa il film Non capisce niente Non capisce niente Aiuto Su spam Emergenze e kill Eh ci provo E però le emergenze Dei fa quando puoi fare le kill Non a caso Porca Iseria Iera Il Ianko In Iriattore 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 Interessante Interessante Gli Ia Incredibile Il Ierde Ierde Iaspettate Ierde Iuro Ierde Iaro Ierde Ioddio Ioddio Ierde Iatro Iato Ina Izione Iaro Iuro Iascoltatemi Iera in Iscudo Iscoltiamo Iscolta Iscolta Io Iono Iono Ion Irode Ion Verde Iaro Iuno Iono Ieno Ion Icordo Iquale Iaro 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 Iro Iari Iaro Iro I I own I 여러� Iaro Iaro Che verde sono io Ma sei un cretino Non so chi sei Sapeva che ero lì E sto rin... Non lo fate dire Io la dico la censura Stavano dicendo Tu di verde scuro E dice verde chiaro Sono deficiente Ma stai parlando di me o di Steph? No di Steph Steph lo sapeva Tu non ne potevi sapere nulla Stavo parlando di Steph Io non mi ricordavo Non sapevo che colore Ma tu era giusto la tua call Tutti fanno l'oscuro E sto cretino In chiaro In chiaro In chiaro Ma stai zitto Ma stai zitto Non so che colore era No che cretino Come fai a sapere che colore è buono? Non ti parlerò mai più E niente ragazzi Abbiamo assistito oggi Una separazione Decisamente Cioè mi fa perdere le partite lui